Soprattutto con l'inserimento degli esteri, sfruttando appunto la sua destra. Soprattutto con l'inserimento degli esteri, sfruttando appunto la sua destra. Soprattutto con l'inserimento degli esteri, sfruttando appunto la sua destra. Soprattutto con l'inserimento degli esteri, sfruttando appunto la sua destra. Soprattutto con l'inserimento degli esteri, sfruttando appunto la sua destra. Soprattutto con l'inserimento degli esteri, sfruttando appunto la sua destra. Soprattutto con l'inserimento degli esteri, sfruttando appunto la sua destra. Soprattutto con l'inserimento degli esteri, sfruttando appunto la sua destra. Grazie a tutti.